Buonasera da Torino, dal telegiornale del Piemonte, dunque al Juventus Stadium qui di Torino siamo poco dopo la mezz'ora della partitissima tra Juventus e Napoli. Giampiero Mandola è andato intorno alle 16 ai Cancelli a sentire i tifosi. I napoletani sono ovunque, quindi non è che possiamo consigliare sud, centro, nord, sono ovunque, un po' come i cinesi. E voi li distinguete dalla puzza con grande signorilità. Molto elegantemente, certo. Grazie a tutti! Sappiamo che il famoso re Sole, francese, in tutta la sua vita si lavò in una vasca da bagno solo tre volte. Tre volte. I Borbone di Napoli avevano un concetto più avanzato della pulizia e allora ecco la stanza da bagno. Il re si immergeva in questa vasca di granito con delle teste di leone scolpito. Un bidet del Settecento. Un bidet del Settecento. Un bidet del Settecento. O Vesuvio Navallito Vi distinguete dalla puzza con grande signorilità Forza elegantemente, certo Grazie